Sono tanti gli approfondimenti dal Covid, dalle nuove tariffe dell'acqua, alle violenze di genere, ai soldi che arriveranno in occasione di questa pandemia, ma un approfondimento particolare è dedicato alla nuova indagine sulla qualità della vita pubblicata dal quotidiano Italia Oggi, sottolineando in particolare gli aspetti peggiori per il bellunese, quelli su cui bisogna lavorare. Quello peggiore, in cui la provincia di Belluno è ultima fra le 107 province italiane, è quello relativo al numero dei suicidi. Sono numerosi rispetto alla popolazione, un tema certamente da tenere presente per lavorare in modo da dare fiducia a tutti, in particolare alle persone più fragili che fanno fatica ad andare avanti. Un altro aspetto su cui certamente si deve migliorare è quello relativo alle truffe e frodi informatiche. Siamo centoquattresimi su centosette. Anche qui probabilmente servirà anche un'azione di informazione importante. E poi siamo centotreesimi per quanto riguarda il numero delle imprese. È un problema noto. La vivacità imprenditoriale va certamente aumentata. Ne va anche delle prospettive della provincia e della possibilità di mantenere i giovani in loco. Ci sono anche note liete, per fortuna. Siamo primi in tre classifiche. Quelle delle rapine in banca, quelle dei protesti, quelle dei furti d'auto. E siamo terzi per quanto riguarda occupazione e disoccupazione. Sesti per quanto riguarda la preparazione degli studenti. Ci sono anche motivi di fiducia, anche questi da valorizzare e potenziare.